Un rocambolesco inseguimento terminato con due pugni in faccia ad un agente di polizia. E' l'episodio di cui si è reso protagonista un pregiudicato ragusano di 55 anni, Francesco Naselli, arrestato dalla polizia per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, porto senza giustificato motivo di coltello, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto sia dell'alcol test che degli accertamenti sanitari. Erano le 22 di ieri sera quando l'uomo, stanco di attendere la spia verde del semaforo in via Archimede, con un mezzo a tre ruote supera le autovetture incolonnate tra lo stupore e la paura degli automobilisti. Il suo gesto però non passa inosservato alla vista di una volante che si pone al suo inseguimento, intimandogli di fermarsi. Il 55enne, giunto vicino al bar dello stadio, invece di fermare la sua corsa, tenta di dileguarsi. Una volta bloccato, non solo si rifiuta di esibire i documenti, ma inizia a minacciare gli agenti di polizia. Visibilmente ubriaco, Naselli si oppone sia alla prova dell'alcol test, sia agli accertamenti sanitari per verificare se avesse assunto o meno sostanze stupefacenti. La situazione degenera e dalle minacce agli agenti l'uomo passa ai fatti, scagliandosi contro uno di loro fino a sferrargli due pugni in faccia. È stato necessario l'intervento di un'altra volante per fermare l'uomo, ormai fuori controllo. Per lui sono scattate le manette. Naselli è stato trovato in possesso di un coltello ben appuntito e affilato e di circa 0,8 grammi di presunta cocaina che sono stati sottoposti a sequestro.